Una giornata che in certo modo era doverosa dal momento che la Regione Lazio ha messo in campo delle politiche attive a beneficio del lavoro e i risultati che arrivano sui tavoli territoriali in certo modo dicono che queste politiche messe in campo dalla Giunta Zingaretti e dall'assessore Lucia Valente hanno trovato un terreno fertile all'interno dei territori. Certo, quello che noi chiediamo all'interno di questa iniziativa, oggi con le organizzazioni sindacali e anche con gli imprenditori è quella di far arrivare una voce per cercare di osare di più da parte della Regione Lazio su politiche che in certo modo salvaguardino o creino nuovi posti di lavoro e livelli occupazionali. E questo è il risultato dell'iniziativa odierna e sono soddisfatto per la riuscita. Noi siamo un po' troppo fiat dipendenti, questo dobbiamo dirlo, forse negli anni passati non abbiamo saputo valorizzare altre risorse all'interno del nostro territorio. Abbiamo questa grande azienda, la più grande azienda regionale che è FCA, però dobbiamo in certo modo dare la possibilità non solo a Fiat ma anche all'indotto di poter innalzare i livelli occupazionali. La Regione sta cercando di trovare altre soluzioni e metodologie nuove per innalzare i livelli occupazionali. Un'ulteriore occasione per parlare, confrontarsi ma soprattutto per rendere ancora più pubbliche quelle che sono le iniziative che la Regione Lazio ormai ha messo in campo da diverso tempo per quanto riguarda le politiche del lavoro. Abbiamo avuto modo attraverso l'assessore competente di approfondire quella che è Garenzia Giovani, oggi attraverso i contratti di ricollocazione, due strumenti importanti a disposizione di un territorio che soffre, ma un territorio che vuole ripartire e che ha le potenzialità. E sono sicuro che grazie a un lavoro di squadra, al lavoro sinergico tra Regione Lazio, amministrazione provinciale, ma anche comunità locali, comuni ed imprese, questa inversione può essere attuata. La Regione Lazio può fare molto per tutta la Regione e sta facendo in particolare molto per le politiche attive del lavoro. Abbiamo fatto uscire da pochi giorni un bando che consentirà l'accompagnamento attivo nel mercato del lavoro a 2.000 disoccupati del Lazio, molti sono di questa provincia. Per questa provincia la Regione ha lavorato moltissimo, ricordo a tutti l'accordo di programma che è entrato nel vivo e sta incominciando a dare i suoi frutti. Abbiamo rifinanziato la legge 46 con 3 milioni e mezzo, un milione e mezzo sono già disponibili. E' venuto qui anche l'assessore Fabiani a dirlo, ha messo sul piatto subito le risorse per garantire a questo territorio le infrastrutture necessarie per la fabbrica, che è per noi un fiore all'occhiello e rientra nelle priorità della Giunta Zingaretti.